Procede in città lo sfalcio delle erbe tra qualche protesta di chi abita in zone non ancora ripulite a dovere e invece la soddisfazione di chi finalmente vede operai al lavoro nel pieno dell'estate. Sono però i dettagli che fanno la differenza. La segnalazione è arrivata infatti al TG Max che riguarda la centralissima piazza d'Amico di Lanciano dotata di un ampio parcheggio e di un'area riservata agli autobus delle corse urbane. Ridotte ai minimi termini le zone a verde, la manutenzione è impresa facile, facile ma le erbe sfalciate sono state poste proprio su uno scivolo riservato alle persone con disabilità che scendono dai bus e rimangono così in trappola. Una distrazione che non è affatto piaciuta in attesa che l'ingombro venga rimosso e lì da almeno qualche giorno spettacolo pochidificante per il centro città, i corrimano in legno, divelti ormai da anni. Per il resto si lavora in altre zone di Lanciano in un clima torrido che potrebbe favorire incendi e nel pericolo che qualche automobilista possa venire ingannato da sedi stradali non più totalmente visibili. Decisamente peggiori le condizioni di alcune arterie poco trafficate nel comprensorio. Con la provincia in pieno affanno i sindaci dei comuni interessati più volte hanno fatto la voce grossa ma i fogli a disposizione sembrano non bastare mai, ma questa è storia vecchia.